Già all'opera, il mister Gabriele con i più piccoli, cioè impartisci. Via con la respirazione. Le prime regole. Allora, questo, Matteo, sempre fermo come sta il mister, questo ogni qualvolta che facciamo l'esercizio che il mister Gabriele vi ferma, noi ci fermiamo e assumiamo questa posizione qua, pallone tra le gambe, mani sui fianchi, il mister parla e noi respiriamo, recuperiamo. Si dice recuperare perché facciamo un esercizio e dobbiamo recuperare. Recuperare significa respirare. Respiriamo. Ecco questi ragazzi già. Respiriamo. Sotto le ali di mister Di Felice. Da quest'altro lato abbiamo i portieri, Daniel, Ucci, mister Aurelio, Dinella là in fondo, Matteo e Gionghi, guarda, occhio, così. Preparatore dei portieri, il nostro Aurelio. Guardiamo. Guardiamo la palla. Non la guardiamo la palla. Siamo soddisfatti. A meglio occhi, a meglio occhi. Ehi, Michi, ascoltami, ascoltami. Michi, non mi chiamo Michi, non mi chiamo Michi. Siamo soddisfatti di questa risposta. Dai, occhio, guardiamo. Sicuramente hanno fiducia. Della nostra scuola a calcio, come centro di aggregazione e socializzazione dei ragazzi, dove apprenderanno le nozioni di rispetto, di educazione, di amicizia, aggregazione e fratellanza fra di loro e ragazzi. Ok, palla al centro, si respira, si respira. Mister Gabriele, sempre, ha già cominciato. Occhio adesso, occhio adesso, siamo sempre in movimento. Davanti alla palla, guarda come sta il mister, davanti alla palla, incominciamo ad assumere un certo stile, piano piano. A me sempre gli occhi, a me sempre gli occhi. Ragazzini che ancora non c'hanno la divisa perché sono nuovi, nuovi appena. Piano così, piano, si respira. Sarà bene, sulle punte, guardate come fa il mister. avranno il loro kit, tutti uguali. Devono essere fieri della divisa che indosseranno. Guarda me gli occhi, sempre gli occhi al mister. La classica giallo-rossa. Sempre gli occhi al mister. Trasco la calcio, la divisa del kit d'allenamento è sull'azzurro blu. Occhio, adesso facciamo questo movimento qua, guardate, passiamo dietro la palla. Mentre per i più grandi, allievi giovanissimi, è giallo-blu. non la guardiamo qui, non la tocchiamo la palla, guardiamo, non la tocchiamo. Avranno la divisa, il kit è completo anche per i messi invernali. A me, a me, a me, si respira. La tuta. Posizione. Il keyway. Su col nasino. Il borsone. Su col nasino. La divisa d'allenamento, pantaloncini e maglietta. Movimento davanti alla palla. Sempre testa alta, sempre testa alta. Movimento. Bravi. Dopo che i mister hanno, tra virgolette, generalizzato i ragazzi, sia quelli che già erano tesserati l'anno scorso, sia i nuovi, adesso si va al divertimento, ovvero faranno giocare i ragazzini. Quello è il fine. tutti i gruppi si sono sciolti e ogni mister curerà il suo gruppo di ragazzi. lo stand delle informazioni e delle iscrizioni è sempre pieno. c'è la ressa, c'è la fila, là c'è lo stand del rimpresco, ecco i ragazzini già con la palla, ognuno con il suo proprio pallone. la palla attaccata al piede e si diverso. Mister Gabriele dà il ritmo. Occhio! Al pizio ci fermiamo, c'è anche mister Nicola. Respiriamo! Ciao! Grazie.